Ciao bimbi, come state? Noi stiamo bene, anche se ci mancate un sacco. Oggi vogliamo raccontarvi una storia e questa storia si intitola l'uccellino gigante. In un prato immenso vicino a un piccolo villaggio di uccellini un giorno comparve un uovo enorme. Quando lo videro tutti rimasero a becco aperto per lo stupore. È gigantesco, disse Gedeone il piccione, ma hai visto nulla di simile, osservò rosso il pettirosso. Lo covarono tutti insieme e alla fine nacque il più grosso uccellino che si fosse mai visto da quelle parti. Ma che cos'è? si chiesero osservandolo incuriositi. Credo che sia uno struzzo, disse bimbi il passerotto. Grosso com'è, volerà veloce e in alto come un angelo. Lo chiameremo Cherubino, propose Gedeone. Lo struzzo divenne un gigante, ma anche un gran fifone. Tutto lo spaventava e quando aveva paura nascondeva la testa sottoterra, oppure correva via. Infatti Cherubino nella corsa era veloce come il vento. Un uccello però deve volare e i suoi amici avevano cercato di insegnarglielo, ma era stato inutile. Le sue ali erano troppo piccole per sostenerlo e lui non si era mai alzato da terra più di qualche centimetro. Ogni volta che ci provava Cherubino cadeva al suolo con un tonfo. Gli uccellini ridevano. Ah, sei un disastro! Un giorno Cherubino, mentre stava sdraiato sul prato, sospirò. Perché non so volare come tutti gli altri? Non servo proprio a nulla. In quel momento notò che il cielo, sopra i nidi degli uccellini, si faceva scuro. Sollevò la testa e vide le immense ali di un'aquila che volteggiava in cerca di cibo e capì che i suoi piccoli amici erano in forte pericolo. Aiuto, è chi la? gridavano gli uccellini terrorizzati. Si erano accorti troppo tardi del pericolo. Chila stava scendendo in picchiata e ormai non avevano più scampo. Allora Cherubino capì cosa doveva fare e per la prima volta in vita sua non ebbe paura. Si alzò in piedi e attese Chila. Gli uccellini impauriti stavano nascosti dietro il suo zampone. E tu chi sei? gridò Chila quando si trovò davanti quell'enorme animale. E tu che ci fai qui? urlò Cherubino minaccioso. Sparisci! Tagliò corto lo struzzo. Chila allora si girò e volò via a tutta velocità. Ci hai salvato! Sei un vero eroe! esultarono gli uccellini che gli diedero una medaglia. A Cherubino che anche se non vola è un angelo lo stesso. Vi è piaciuta questa storia? sì. Bimbi qui vi ho scritto la storia però è successo un guaio. Nello scriverla mi si sono mescolate tutte le frasi e adesso ho bisogno del vostro aiuto. Provate a leggere queste frasi e a metterle in ordine per come è stata raccontata la storia. Se alcune frasi sono un po' troppo lunghe fatevi aiutare magari da un genitore a leggerle. Poi prendete il quaderno, scrivete il titolo della storia e ricopiate le frasi nell'ordine giusto. Così avrete anche sul vostro quaderno la storia dell'uccellino gigante. Alla fine se vi va potete fare un bel disegno.